Ottimo il riscontro dei cittadini agropolesi e non solo verso l'iniziativa comunale delle case dell'acqua installate presso il parcheggio antistante il palazzetto di concilio in via taverne in località moio piazza sul lungomare san marco presso piazza gallo e in località fonti in piazza carmine acone a breve in città in programma l'installazione con relativa attivazione di altre tre case dell'acqua una scelta economica solo 5 centesimi di euro al litro e amica dell'ambiente che aiuta a ridurre sensibilmente il consumo di plastica i prossimi punti individuati sono piazza san severino zona centro storico zona madonna del carmine nei pressi della farmacia comunale zona mattine nei pressi del centro abitato fra gli obiettivi dell'amministrazione coppola persegue da sempre il rispetto dell'ambiente mediante la salvaguardia delle risorse naturali nell'ottica delle politiche ambientali volte al risparmio e alla riduzione dei rifiuti nonché alla diffusione sul territorio della cultura di valorizzazione del patrimonio idrico e di contrasto allo spreco l'amministrazione ha avviato iniziative che possano costituire un percorso educativo sotto il profilo ecologico un importante passo verso il plastic free la possibilità di riutilizzo delle bottiglie contribuirà a diminuire il consumo di plastica la distribuzione e il trasporto